Notte di terrore ieri a Parigi con sette attentati terroristici in diversi punti della città, due l'italiano a momento coinvolti feriti leggermente, il presidente del Lancia in sud bianco ha proclamato il lutto cittadino e ha impitato i sindaci ed esporra a mezz'asta le bandiere francesi. Ci potrebbero essere nuove presunte rivelazioni di Veronica Panarello ieri durante le sette ore di interrogatorio nel carcere di Agrigento dove la donna è rinchiusa per l'omicidio del figlio Loris da parte degli investigatori bocche cucite. Dopo le dimissioni dell'assessore Stefania Campo e consiglieri comunali di minoranza Ragusa hanno detto il loro pensiero, la motivazione delle dimissioni non convince la minoranza e chiede le dimissioni del sindaco Federico Piccitto. Anche la piscina Laura Acqua ha aderito al progetto di solidarietà e sport giunto alla terza edizione World Wide Aquaton partito da un'istruttrice di acquagim africana l'evento ha coinvolto tutto il mondo in contemporanea. Buon pomeriggio, questa è la prima edizione di MTG, ancora benvenuti. L'apertura è dedicata agli attentati terroristici di ieri sera a Parigi senza precedenti in Europa. Il bilancio delle vittime è sempre in evoluzione al momento dei sette attacchi in contemporanea e di circa 128 morti e 192 feriti. Tra questi ultimi ce ne sono circa 80 in gravi condizioni. Colpiti un teatro, il Bataclan, lo stadio e altri punti della città. Tanti siciliani presenti a Parigi che hanno raccontato quanto vissuto. Intanto il sindaco di Catania e presidente del Lanci ha invitato tutti i sindaci italiani a proclamare il lutto cittadino ed esporre per qualche giorno anche la bandiera francese a quelle esposte in municipio. Sentiamo. Bandiere a mezzasta e lutto cittadino lunedì a Palermo e Catania dopo gli attentati terroristici di ieri sera a Parigi. Al momento le vittime sono più di 100 così come i feriti. Tutto il mondo è attonito da quanto è successo, il sindaco di Catania Enzo Bianco in qualità di presidente del Consiglio Nazionale del Lanci e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani ha invitato i primi cittadini di tutta Italia a fare lo stesso perché mai come in questo momento occorre essere uniti e solidali. Da oggi e per qualche giorno, ha detto ancora Bianco, aggiungeremo inoltre anche quella francese alle bandiere esposte in municipio. Anche la giunta comunale di Palermo ha deciso che da oggi fino a lunedì saranno esposte a mezzassa le bandiere in tutti gli uffici comunali. Mai come ora, ha dichiarato il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, a nome di tutta l'amministrazione, è necessario mostrare solidarietà e coesione nel rifiutare qualsiasi forma di violenza e di estremismo barbaro. Intanto tantissimi sono i siciliani a Parigi, chi per vacanza e chi per lavoro. Ognuno racconta la propria esperienza e il loro dramma vissuto in quegli attimi di terrore. Un giornalista sportivo siciliano ha dichiarato di non aver visto mai tante ambulanze tutte insieme, mentre una studentessa gelese è salva per miracolo. Questa mattina intanto si è riunito a Palermo il Comunato Nazionale per la Sicurezza per chiedere al Governo di monitorare con attenzione la situazione siciliana, inviando forze aggiuntive e monitorando le presenze nei centri immigrati. Vanno velocizzate tutte le operazioni di richiesta d'asilo. Chi non ha titolo deve lasciare il nostro Paese. A dichiararlo è il Presidente della Commissione Antimafia dell'Ars, Nello Musumecci. Sette ore di interrogatorio, tanto è durato l'incontro nel carcere di Contrada Petrusa ad Agrigento tra il sostituto procuratore Marco Rota e l'imputata nel processo del caso Loris Veronica Panarello, la madre del bambino di otto anni trovato morto in un canalone in Contrada Vecchio Mulino a Santa Croce Camerina. Un interrogatorio secretato, bocche cucite con nuove presunte rivelazioni della donna. Loris non l'ho ucciso io, così Veronica Panarello al PM Marco Rota nella deposizione durata sette ore in carcere ha ribadito la propria innocenza, ha ammesso di non averlo accompagnato a scuola ma che il giorno in cui è stato ucciso il bambino è salito a casa con le chiavi che gli ha dato lei, poi ha aggiunto di avere un buco e di non ricordare. La stessa ammissione che Veronica Panarello ha reso al marito che è andata a trovarla dopo che il 6 novembre scorso lo ha supplicato di non lasciarla sola perché aveva qualcosa di importante da dirgli. Sette ore di interrogatorio nel carcere di Contrada Petrusa ad Agrigento chiesto dalla Panarello al PM ma il contenuto è secretato. È stato intimato all'incurenti in silenzio stampa e lo stesso legale della difesa Francesco Velardita ha deciso di non dire niente fino all'udienza preliminare di rinvio a giudizio davanti al gruppo del Tribunale di Ragusa Andrea Reale il 19 novembre anche se potrebbe eslittare di 24 ore a causa dell'assenza dell'avvocato Velardita che è impegnato in Cassazione a Roma. Tuttavia la Panarello non ha reso piena confessione sull'omicidio ma solo sulla certezza di non averlo accompagnato a scuola. Una ammissione che arriva dopo quasi un anno di carcere e durante il quale lei ha sempre sostenuto di essere sicura di aver accompagnato Loris a scuola fin tanto che la mattina dell'omicidio andò a prenderlo alla fine dell'orario scolastico. Se non glielo ha accompagnato perché andò a cercarlo a scuola? Una confessione che mette in crisi anche la strategia difensiva di Villardita al quale la sua assistita evidentemente non ha detto tutta la verità. Sta riaffiorando in queste ore l'ipotesi di un complice, un brigadiere della Guardia di Finanza morto suicida qualche giorno dopo l'omicidio di Loris Stival. Si era ipotizzato che il militare si fosse ucciso con un colpo di pistola nella sua abitazione per aver avuto ruolo nell'omicidio. I carabinieri però si tracciarono tabulate e dispositivi elettronici di proprietà del brigadiere non trovando alcun elemento che potesse condurre al delitto né tantomeno ad un contatto con la Panarello. Nella rubrica telefonica del suo cellulare non c'era neanche il numero della mamma di Loris, hanno confermato i carabinieri. Il suicidio fu addebiato infatti ad altra causa già nota. E' stata rinvenuta droga durante un'operazione di polizia congiunta a cui ha partecipato il commissario di polizia di Vittoria e la squadra mobile della questura di Ragusa con l'ausilio delle unità cinofile della polizia di Catania. E' stato arrestato un giovane vittoriese. 50 grammi di arba essiccata e pronta allo spaccio, centinaia le dosi ricavabili, un ingente guadagno illecito per il pusher grave e il danno che poteva causare agli assuntori. La polizia di Vittoria e la squadra mobile di Ragusa con le unità cinofile di Catania hanno stroncato un giro di droga nella piazza vittoriese, arrestando uno spacciatore, il trentenne vittoriese Eric Cavallo, già noto alle forze dell'ordine per reati in materia di armi. I poliziotti hanno perquisito una villetta abitata da parecchie persone alla periferia di Scoglitti, dove da giorni erano stati notati movimenti sospetti. Il fiuto di Ali, il cane antidroga della polizia, ha puntato verso un bidone in plastica in un locale adibito a deposito per gli attrezzi. Gli agenti lo hanno scoperchiato e all'interno hanno trovato dei rami con infiorescenza della nota cannabis indica e un bilancino di precisione per il confezionamento delle dosi. Il peso complessivo della marijuana è risultato di circa 50 grammi. La sostanza è stata sequestrata e inviata ai laboratori di igiene pubblica dell'ASP di Ragusa per le analisi chimico-fisiche quantitative. Le manette sono state strette ai polsi di Eric Cavallo con l'accusa di detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari. La decisione non è ancora stata formalizzata, ma il governatore siciliano Rosario Crocetta ha scelto l'ultimo assessore per completare la sua squadra di governo. Si tratta di Luisa Lantieri, esponente di Sicilia Democratica, che andrà a sedere sulla poltrona dell'assessorato alla funzione pubblica. Una decisione arrivata nella tarda serata di ieri dopo un incontro a Palazzo d'Orleanne con i vertici di Sicilia Democratica, tra cui il presidente Nuccio Cusumano e il deputato regionale Pippo Currenti. Oltre alla stessa Lantieri, secondo indiscrezioni ci sarebbe stato anche il gradimento del PSI megafono. Ma non tutti, ma non di tutti, come ha tenuto a precisare ieri sera il vicepresidente vicario dell'ARS, Antonio Venturino. Conferenza stampa oggi al Comune di Ragusa, indetta da un gruppo di consiglieri di minoranza per discutere delle dimissioni dell'assessore Stefania Campo. Unanime il pensiero su ciò che non convince di queste dimissioni. E' un interrogativo al quale non si potrebbe rispondere al momento, in quanto l'assessore Campo, ieri durante la conferenza stampa, ha espressamente sottolineato che la sua scelta è scaturita da una volontà propria di rispettare i principi di trasparenza del Movimento 5 Stelle, di cui ne è ancora attivista, e che, l'articolo di giornale, infangava lei e la sua famiglia imputando le atteggiamenti ombrosi anche in riferimento al marito e alla madre. Oggi, alla conferenza stampa, indetta dai consiglieri di minoranza Maurizio Tumino, Giuseppe Lodestro, Giorgio Mirabella, Angelo Laporta, Elisa Marino, Gianluca Morando, tuttavia assente per motivi lavorativi, Sonia Migliore e Manuela Nicita, è stato puntualizzato come sia incomprensibile la totale assenza del sindaco di Ragusa, Federico Piccitto, che secondo i consiglieri si sarebbe limitato solamente a prendere atto della scelta di Stefania Campo di dimettersi. C'è la volontà di far luce sulla vicenda che, a dire dei consiglieri, è poco chiara e far riflettere che un articolo riportato da più testate possa, in questo modo, spingere un assessore a dimettersi. Ieri, durante la conferenza, Stefania Campo, ormai ex assessore alla cultura del comune di Ragusa, aveva sottolineato come l'interrogazione presentata dal consigliere Sonia Migliore sia passata in secondo piano rispetto all'articolo giornalistico. Di questo ne abbiamo parlato proprio con la Migliore. Si dimette per un articolo di giornale che nasce dopo l'interrogazione, perché i fatti sono questi, e quindi è una cosa che non ci convince. Se fossero stati assunti, come dire, tutte e tre, nel rispetto del capitolato, sarebbe stata un'altra questione. Quindi vengono assunte sette unità nuove, l'unico che era di prima era il marito dell'assessore Campo, gli altri due non sono stati tenuti in considerazione. Questa cosa dell'offerta credo che non sia vera, peraltro mi risulta che i due lavoratori stiano anche agendo per le vie legali, pure loro. Unanime il pensiero sul sindaco Federico Piccitto, che secondo i consiglieri di minoranza dovrebbe dimettersi per inadeguatezza. Inadeguata è infatti, secondo i consiglieri, la scelta di non azzerare la giunta e quindi di non dare un segnale diverso alla città di Ragusa. Nonostante l'assessorata alla cultura, che sino a pochi giorni fa era gestito da Stefania Campo, abbia dilapidato, questo è il termine utilizzato dai consiglieri di minoranza, un milione e 300 mila euro, la conferenza non si è incentrata sull'operato della Campo, ma sulle sue dimissioni che suscitano sospetti ancora più grandi, in quanto si crede che la Campo si sia dimessa per scelte arrivate dai vertici del movimento e questo passaggio giustificherebbe, secondo i consiglieri, le non reazioni di Piccitto. Intanto il consigliere comunale Elisa Marino, in qualità di presidente della Commissione Trasparenza al Comune di Ragusa, ha deciso di convocare la commissione che si dovrebbe riunire mercoledì prossimo. L'obiettivo che ci poniamo con questa convocazione è fermavarino e di fare piena luce attraverso la visione di documenti già richiesti e da richiedere su quanto accaduto a Palazzo dell'Aquila in merito appunto alla vicenda dell'ex assessore Campo. Siamo ancora alla politica di Ragusa perché si sono riuniti ieri sera gli stati generali del PD, circoli Pippo, Tumino e Rinascita Democratica con il loro forzavoce Peppe Calabrese, porteranno avanti il fare politica nell'interesse della città e con la prospettiva di far crescere un partito sempre più lacerato al suo interno. Nasce a Ragusa un direttorio paritetico tra i circoli Pippo, Tumino e Rinascita Democratica del PD. Obiettivo fare politica nell'interesse della città e con la prospettiva di fare crescere un partito lacerato all'interno. I lavori di ieri sera sono stati aperti dai segretari dei due circoli rispettivamente Gianni Laurette e Toni Francone. In merito poi all'elezione per la seconda volta di Gianni Battaglia, segretario dell'Unione Comunale avvenuta ieri sera, scrive Peppe Calabrese, portavoce dei due circoli, nonostante lo stop imposto dal partito nazionale e regionale, avallando ancora una volta l'esclusione del circolo Pippo Tumino e nonostante ricorsi vinti, l'Assemblea ha deciso di prendere le distanze da quanto accaduto, non riconoscendo la legittimità della scelta del secondo circolo e proponendo un direttorio composto in modo paritetico con un portavoce dei due circoli, individuato proprio nella figura dell'ex segretario del PD cittadino Peppe Calabrese. Si tratta di un organismo nato per fare politica nell'interesse della città e con la prospettiva di far crescere un partito sempre più lacerato al suo interno. Il portavoce calabrese ha auspicato nel suo intervento conclusivo che si possa arrivare nell'interesse di tutti ad una soluzione che mette fine a questa storia che vede un pezzo del partito escluso da tutto, magari prima di venerdì 20 novembre, data scelta dal regionale per un incontro risolutorio da tenersi a Palermo. Il sindaco di Ispica, Pierenzo Muraglia, insieme all'agricoltori e all'allevatori, ha presentato un'istanza alla regione per richiedere di sgravare agli agricoltori e agli allevatori che hanno subito danni dall'ultima ondata di maltempo le cartelle del Consorzio di Bonifica perché situazioni eccezionali richiedono interventi e aiuti eccezionali. Il sindaco Muraglia ha proposto di consentire ai privati la pulizia dei canali compensando le attività svolte con quanto dovuto al Consorzio di Bonifica. Il primo cittadino espicese relazionerà all'assessorato regionale di competenza i danni subiti dagli operatori agricoli e dagli allevatori ed inoltre l'istanza con ad oggetto la proposta di non fare pagare ai contribuenti il canone dovuto al Consorzio in cambio di opere di manutenzione prestate per la manutenzione dei canali. Ieri e oggi presso il centro di accoglienza di Caltagirone si è svolto un seminario rivolto all'esperienza della cooperativa sociale all'interno del Calatino Sud Simeto. Si conclude oggi la due giorni di promozione dell'esperienza della cooperativa sociale che si è svolta all'interno del territorio del Calatino Sud Simeto. Il Calat Car, fiera del benessere sociale, quest'anno celebra la sua decima edizione. Il tema di quest'anno è stato Promuoviamo persone e visioni di comunità, un confronto lungo dieci anni. L'evento si è svolto all'interno del centro di prima accoglienza a Caltagirone. Il primo giorno dei lavori ha visto dopo il video narrante la storia di questi dieci anni della manifestazione, il seminario su minori stranieri non accompagnati, quale forma di accoglienza, a relazionare referenti di enti internazionali come la Croce Rossa italiana e Save the Children che ha offerto uno spaccato delle forme attuali di accoglienza e delle possibili soluzioni future. La storia della cooperazione è una storia al servizio del territorio, il nostro impegno continuo, la nostra continua ad essere una comunità di persone e di imprese, di uomini e di idee che lavorano per il cambiamento sociale, che costruiscono prospettive di sviluppo. Oggi invece l'attenzione è stata dedicata alla cooperazione ai giovani e al territorio, presenti responsabili della cooperazione a livello nazionale e locale che hanno offerto uno spaccato dell'impegno della cooperazione nel bel paese e nel territorio. Un elemento che caratterizza la nostra cooperazione sociale è la territorialità, quindi il rispondere alle esigenze del territorio di appartenenza. All'interno di questo programma le misure che sono state attivate nel territorio calatino partono dall'attivazione di un progetto di servizio civile in ambito immigrazione. Il Calat Car intende anche nella sua decima edizione riconfermarsi come l'unico evento realizzato nel contesto del calatino sul simeto, utile a valorizzare l'esperienza della cooperazione sociale del territorio, quale strumento di promozione e di rilancio per l'economia del territorio. Siamo molto onorati di partecipare a questa prestigiosa iniziativa del nostro territorio e partecipiamo a questo evento anche per raccontare la nostra esperienza, un'esperienza di successo che nel giro di poco tempo ci ha permesso di conquistare l'attenzione della critica e del mondo culturale nazionale e internazionale partendo proprio dal nostro territorio. Si è svolta ieri nella sala Spadaro del Comune di Modica la conferenza di servizio che conclude l'attività di programmazione del distretto sociosanitario 45 relativa alla terza triennalità del piano di zona. La conferenza convocata dal Comitato dei Sindaci è stata l'occasione per presentare alla cittadinanza i tre progetti a valere sui fondi della legge 328 che saranno inviati per valutazione e approvazione alla regione siciliana. Considerato che le risorse sono dimezzate rispetto alla triennalità precedente, dice l'assessore Rita Floridi, abbiamo deciso di concentrarci su tre progetti LUC, lavori di utilità collettiva essenziali per ridare dignità alle persone fragili, l'educativa domiciliare, servizio che consente al minore di essere eseguito all'interno del proprio nucleo familiare ed infine l'assistenza domiciliare necessaria per sostenere e supportare i disabili anche temporanei che per varie ragioni non possono contare su una rete familiare. Il Comune di Modica aderisce all'avviso pubblico emanato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per ottenere il contributo per le esecuzioni di indagini diagnostiche dei solai e dei controsuffitti degli edifici scolastici. Con un atto della Giunta è stata autorizzata la partecipazione e il cofinanziamento. I termini scadono il prossimo mercoledì, l'incarico è stato conferito all'ingegnere Roberto Fazio per lo studio e la verifica delle condizioni statiche dei solai, dei controsuffitti e degli elementi ad essi ancorati degli edifici scolastici. Tre ore di acquagim in contemporanea in tutto il mondo, anche a Modica nella piscina di Laura Acqua. Il progetto è il terzo Worldwide Aquaton, un'esperienza che racchiude il benessere fisico, la socializzazione e la solidarietà. Una giornata di sport e benessere fisico e quindi anche mentale perché l'acqua gym ha il potere di migliorare la qualità della vita e di accrescere l'autostima. A Modica nella struttura di Laura Acqua oggi, in contemporanea in tutto il mondo, è stato celebrato il terzo Worldwide Aquaton, un progetto partito dal Sudafrica, un continuo lavoro aerobico di tre ore arrivato fino nella provincia più a sud Italia. Nel 2014 sono stati 51 i paesi che hanno partecipato in 84 piscine con oltre 3.000 partecipanti. Un grande acqua splash in tutto il mondo che già nel 2013 aveva coinvolto 42 paesi. Questa mattina nella piscina di Laura Acqua c'erano mamme e nonne giovani che si sono munite dell'abbigliamento adatto per allenarsi dentro l'acqua a ritmo di musica con una buona dose di motivazione psicologica e il sorriso sulle labbra. Io da quanto ha aperto Laura che non faccio altro acquagym e la bike in acqua. Molto bella per la circolazione, per sentirsi liberi e scaricare tutta la tensione della giornata accumulata. Ecco quindi dopo questo bel allenamento ci si sente molto più carichi, quindi è uno sport a consigliere un po' a tutti no? Sì sì sì, senz'altro tutto, dai bimbi appena nati da qualche mese fino ai grandi, ai nonni come me. Io sono una nonna da cinque anni che vengo qua in acqua. Acquagym perché significa salute, serenità, rilassatezza, soprattutto per una mamma che da poco ha avuto una bambina e quindi necessario sia per il bene fisico che psico. Laura Savarino, titolare di Laura Acqua, ha puntato molto su questo progetto anche per fini di solidarietà, benefici. È stato messo a disposizione un salva danaglio dove poter inserire delle offerte da devolvere alla casa di accoglienza modicana Larca, da quasi vent'anni attiva sul territorio attraverso i servizi e progetti educativi. Oriente i suoi sforzi e il suo stile educativo per il riconoscimento, la promozione e la tutela dei diritti di tutti i bambini e i ragazzi. Questa idea è nata da una ragazza, da una collega che vive nel nord Africa, Rose Arzenberger. Lei tre anni fa ha avuto questa idea di unire tutto il mondo contemporaneamente, allo stesso momento, con la stessa attività. Questa mia collega ha voluto unire un momento di solidarietà per un'associazione no profit. Noi abbiamo scelto come associazione la cooperativa Larca. È una cooperativa che si occupa di bambini in difficoltà, familiari soprattutto. E quindi venendo incontro al Natale avevamo pensato di voler far contenti questi bimbi nel momento del bisogno. E' stato pubblicato il bando pubblico per la giudicazione dei lavori e per la sistemazione dell'asilo nido comunale. Sarà possibile presentare le istanze fino all'11 dicembre 2015, mentre l'apertura delle buste è prevista per il 14 dicembre. Danne notizie all'assessore ai lavori pubblici Francesco Ammatuna ed annuncia che il Comune di Pozzallo ha ottenuto il finanziamento di 242 mila euro per i lavori che dovranno essere rendi contati entro il 31 dicembre del 2016. E adesso ci fermiamo, c'è la pubblicità tra poco. Bentornati in studio, parliamo di un servizio del nostro ufficio commerciale sull'evento che ha aperto i battenti oggi a Catania, RHS Ristora Hotel Sicilia. Taglio del nastro oggi per l'evento Ristora Hotel Sicilia, giunto alla dodicesima edizione dedicato alla ristorazione, bar, gelateria, pasticceria, panetteria e in generale agli operatori del mondo oreca. La cremesse chiuderà i battenti martedì prossimo al centro feristico a Tena Fiere di Catania. La cremesse organizzata da Expo Mediterraneo del sistema Confcommercio Catania è divenuta punto di riferimento per le aziende del settore alberghiero e della ristorazione della Sicilia, Calabria e Malta. Il salone vede l'esposizione di circa 500 brand leader nei settori dell'oreca. Sono stati montati 120 stand per accogliere le 70 imprese espositrici in 4.000 metri quadrati di superficie che faranno da vetrina alle più prestigiose aziende di attrezzature, arredi, semilavorati e servizi destinati alla gelateria, panetteria, pasticceria, bar e beverage. Contano soprattutto le fiere di settore ormai si dice periferiche o regionali. Ci ha insegnato l'Olanda vent'anni fa che bisognava cambiare regime e questa va assolutamente in quella direzione. E poi credo che siano le fiere una risposta di concretezza. Partner di alto profilo professionale è Ristor World Italy, l'associazione che si occupa della valorizzazione della cultura enogastronomica italiana che all'interno di Ristora Hotel Sicilia organizzerà meeting, concorsi e momenti di formazione dedicati alla riscoperta del patrimonio delle nostre regioni italiane. Questa è un'eccellenza, dodicesima edizione, 130 stand per oltre 500 espositori e il modo migliore per far capire che la Sicilia non è più quella di una volta, c'è una classe dirigente nuovo che sta facendo bene e un'offerta turistica che inizia a funzionare. Siamo molto euforici, molto soddisfatti di quello che abbiamo organizzato e vorrei ricordare che questo è il sistema Confcommercio Catania che cresce e cresce a favore e a disposizione di tutte le aziende. Naturalmente quest'anno abbiamo delle chicche importanti perché non vorrei fare una pubblicità un po' gratuita a tutti ma abbiamo aziende di livello assolutamente internazionale. Quest'anno a fianco di Expo Mediterraneo scende anche Federcarni Catania, il sindacato del comparto alimentare legato a Confcommercio Imprese per l'Italia che ha promosso il progetto Meat Meeting per supportare un mercato in costante evoluzione quale quello della macelleria e della salumeria. Intanto domani alle ore 10 a cura del Confcommercio Sicilia Federcarni Catania si svolgerà un convegno su corretta ed equilibrata alimentazione e lunedì il CREA, Consiglio per la ricerca in agricoltura e analisi dell'economia agraria, terrà una tavola rotonda sui birrifici siciliani. E da Catania ci spostiamo a Ragusa per un altro servizio dell'ufficio commerciale che parla di un evento presso la concessionaria Jeep Scar di Ragusa. Open day oggi e domani presso la concessionaria Jeep del gruppo Scar di Ragusa. Commercialisti offriranno consulenza ai consigli fiscali personalizzati, relazioni all'auto e al proprio business. Sarà presente anche un driver quattro ruote con il quale poter provare la vettura. L'evento è dedicato soprattutto a partita a IVA, liberi professionisti, piccoli imprenditori, commercianti e PMI. La Scar di Ragusa è stata scelta insieme ad altre 32 concessionari in Italia per questo evento organizzato in collaborazione con Quattro Ruote e l'Associazione Commercialisti. FCA ha scelto 33 concessionari in Italia con un accordo con Quattro Ruote e con l'Associazione Commercialisti per dare una consulenza, non solo una consulenza per quanto riguarda le vetture, le caratteristiche delle vetture, ma anche una consulenza fiscale per personalizzare sempre di più le nostre vendite. Questo processo di fidelizzazione che noi rincorriamo già da tempo dei clienti, perché siamo usciti dalla logica della vendita pura e semplice, ma noi vogliamo accompagnare i nostri clienti sia prima dell'acquisto che dopo l'acquisto, consigliandoli di avere sempre più una funzione anche nel post vendita e nell'assistenza. Siamo da anni sul livello di consulenza per il cliente che viene ad acquistare da noi, non siamo venditori esclusivi, siamo consulenti e al momento della vendita e al momento della consegna e del proseguimento. In aftermarket noi continuiamo con la nostra consulenza. Concessionarie scelte perché seguono una logica particolare di dare ulteriori consulenze, ulteriori servizi aggiuntivi ai clienti. Serve praticamente per migliorare il loro servizio di qualità per dare ulteriori servizi a tutti coloro che intendono acquistare le loro vetture. E' stato nominato Salvatore Mugneco, modicano di 51 anni, presidente del Consiglio Direttivo dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Ragusa. Vicepresidente Rosario Macca, segretario Giuseppe Ficili e tesoriere Marco Baglieri. Concludiamo con gli appuntamenti. Anche a Dispica prendono in via gli appuntamenti culturali del caffè Quasimodo di Modica. Una luce nel buio, la violenza sulle donne nella foto di Tina di Rosa e nei monologhi teatrali di Daniela Fava. E' il tema del centro del sabato letterario del gruppo Dispica che esiderà alle 17.30 presso la sala giunta di Palazzo Bruno. Esercitazione di protezione civile oggi e domani nel territorio modicano. I volontari metteranno in pratica le conoscenze nel campo della logistica per quanto riguarda la ricerca dei dispersi tramite le unità cinofile e i volontari con l'ausilio delle comunicazioni in radio e dei sistemi GPS e cartografici. L'inizio è previsto per le 10.00. È tutto per questa edizione di MTG. La prossima è alle 19.45. In studio ci sarà Marco Scavino. Grazie, buon fine settimana e buon pomeriggio.